20% in meno sulla tassa dell'occupazione del suolo pubblico per le imprese ed ili di Trieste. Questo è il risultato di una mozione presentata dal consigliere comunale di Forza Italia Everest Bertoli, il quale si è speso affinché non vi fosse un aumento sulle tasse per le suddette imprese. Un ottimo risultato per l'economia cittadina e per le imprese, in un momento così difficile dove l'edilizia è in ginocchio da tanto tempo, sarebbe stato veramente folle ed insensato pensare ad un ulteriore aumento delle tariffe di occupazione di suolo pubblico per quanto riguarda le imprese ed ili e gli artigiani ed ili. La mozione presentata dalla Forzista è stata accolta ieri dal consiglio comunale, andando di fatto incontro a quelle attività economiche che chiedono a gran voce che la stretta fiscale nei loro confronti venga allentata. Abbiamo portato l'attenzione dell'assessore e fatto approvare un emendamento da parte del gruppo di Forza Italia che elimina questa maggiorazione del 20%. Ci rendiamo conto che è un piccolo aiuto, ma noi crediamo fermamente che dobbiamo proseguire nella politica della riduzione delle tasse come l'unico strumento per rilanciare l'economia cittadina.